In archivio la seconda giornata della Coppa del Mondo Femminile di Scialpino a Cortina d'Ampezzo, l'evento proposto questo fine settimana dalla Fondazione Cortina. A vincere la discesa sulla Olimpia delle Tofane con tracciato accorciato a causa del vento in quota è stata la slovena Ilka Stuhets. L'atleta era risultata seconda nella giornata di venerdì staccata di 13 centesimi dalla nostrana Sofia Goggia che non è riuscita a portare a casa il bis a causa di una caduta fortunatamente senza gravi conseguenze. La giornata numero due di Cortina Ski World Cup ha visto la presenza di numerosi campioni del passato tra questi Cristian Ghedina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Ad applaudire le campionesse di Cortina anche il ministro dello sport Abodi, il presidente del CONI Malagò, quello della Fisi Roda, il sindaco di Milano Sala, il primo cittadino di Cortina d'Ampezzo Lorenzi e il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Anche quest'anno Cortina ha risposto alla grande. Sono state le prime due giornate veramente di grande spettacolo e poi anche di grandi successi dal punto di vista agonistico per la nazionale italiana. Ma quello che è importante, ho visto grandissimo entusiasmo e devo dire che Cortina, dal punto di vista organizzativo, è sempre stata un'eccellenza e lo ha dimostrato anche quest'anno. Domenica alle 11.30 ci sarà la partenza del Super G nella terza e conclusiva giornata di Coppa, un evento che è servito da antipasto per le Olimpiadi Invernali che si terranno tra le stesse nevi esattamente fra tre anni. Proprio nella giornata odierna, infatti, è stato siglato l'accordo tra la Fondazione Cortina, preseduta da Stefano Longo, e la Fondazione Milano Cortina 2026, un'intesa che servirà a facilitare l'organizzazione del grande evento.